Grazie a tutti. Il terraneo è molto attento. Il protagonista ancora dei ponti. Una manata istintiva di Terraneo ribadisce agli... ...abilmente consegna a Terraneo, praticamente un passaggio. La linea di Paisaola non è quella del gol, è la prova. Terraneo ha difficoltà... ...grandissimo su questo colpo di testa di Tempestilli. Ehi, Terraneo intercetta, ma Di Bartromeo è pronto a sfruttare il rimpallo favorevole. ...napoli. Anche se Domini, per esempio, si dà un grande affare. Su ha la conclusione che chiama la prima... ...batte debolmente. Fruzzo, Terraneo spara. Poi dopo un inizio di ripresa... ...la partita è ancora per Bettega, ma Terraneo stavolta è più bravo dell'avversario. Bettega, non ancora ristabilitosi del tutto dall'attacco influenziale di metà settimana, cedeva il compito a Bredi, ma la sua massima punizione veniva in... ...corretto è diventato più duro nella ripresa con... ...area, eccolo, e impegna Terraneo in una parata difficile... ...cadilegi. Cagno in semirovesciata, costretto Terraneo ad un... ...decisivo intervento. ...è concluso molto meno bene da Gerson. Sono... ...una conclusione ravvicinata di Marino è stata respinta ad intu... ...parte l'assenza più rilevante è senza dubbio quella di Barbas. Comi in grande giornata. ...tresimo. Vedete ancora? Palanca. ...davvero impeccabile oggi, manda in corner, guizzando sulla propria sinistra. Rivera, che aveva battuto il penalty, si mette le mani nei... Il Milan vince una partita delicata che si potrebbe raccontare in molti modi a sé ricca di spunti... ...dalle assente nel Torino di Graziani e Claudio Sala, al finale che ha decimato i rossoneri con relativa... ...tiro di viaggio da Terraneo che poi impedisce il... ...scarandante per... ...qualche notevole rischio, ma al momento di string... ...si segnala come al solito su punizione... ...latini più Terraneo fanno queste attraverso... ...incassare la quarta rete. All'ultimo minuto... ...per raccontare, a parte questa prodezza di Terraneo nel primo tempo... ...sulla tira di... ...la Roma risponde a D'Ernandez con una fucilata di Pruzzo... ...da Agostini per Domini, tiro preciso d'esterno destro, Terraneo... ...e Terraneo si ripete su Domini. ...e enti d'Italia. Oggi il Bologna... ...e capolavoro di Giordano, solo un gran volo di Terraneo impedisce al Bologna di arrivare a quota 3... ...che costringe Terraneo alla deviazione in corner. Ci mette una manina magica. Abbiamo avuto l'abilità e la forza... ...ripposo, un tiro dell'ex Torrisi... ...para Terraneo. Andiamo alla ripresa... ...il tiro di Mei è fermato da Terraneo. ...prenderlo, ma poi trova il tuffo giusto e salva la patria. ...ponti, neutralizzato dall'intervento del numero 1 del Torino. ...Dono e Fontolan, sono proprio loro due, anzi, a firmare quasi allo scadere. Lui, il Genoa, trova coraggio e idee, tanto che negli ultimi minuti il Lecce soffa. ...palla a Righetti ha impegnato Terraneo, il Lecce... ...foga fuori gli artigli, Terraneo vola, ma gli inglesi vogliono far... ...con due calci di punizione, quello di Di Bartolomei viene deviato da Terraneo, così come quello di Ferro. ...palla respinta di Terraneo, posizione difficilissima del Brasileo. ...e noi vediamo Terraneo ora, dire di no, al terzo di inserire la Roma. Si sveglia, senza molto ordine. ...pressioni nemmeno troppo pretenziose di Bren, non si è vista in definitiva l'inter... ...per alcune belle parate. ...quasi allo scadere, presenti e in difficoltà il proprio portiere, ma l'autorete non arriva. ...nella ripresa entrano Garzia e Donofrio, fuori in grosso... ...cuochi da fuori, poi Terraneo non si distra... ...sì, Pardelli svetta, ma il portiere Granata provvede. ...della Lazio. Lazio che si fa pericolosa al ventunesimo con questa bella girata di Amarildo. ...contro il tecnico Comasco, non ha mai perso il Como per guadagnare un po' di Agostini. Terraneo è pronto a respingere. ...per reciproco il deliberato intento di portare... ...con Bertoni su punizione all'inizio. ...e che pur in formazione d'emergenza e con tanti giovani, ha disputato la migliore partita del campionato. Ma il Toro non è tutto qui. Quando ha giocato alla grande per battere invece l'allievo, spenta l'azione di slancio il Milan... ...e fermare una botta di Maldera. ...faccini, l'unico cecchino di Angelillo, si fa vivo con Terraneo. ...claudio Sala e tiro finale in acrobazia di Pellegrini, ma Terraneo... Platini, più nervoso di altre volte, prima sbaglia. La Juventus è pungente nel gioco di rimessa. Terraneo sventa il per... ...non soltanto in Italia. ...trentaquattresimo, punizione di muro molto bella, Terraneo è pronto e non si fa sorprendere. Al quarantacinquesimo, nuovo pericolo per il Torino, la conclusione di Cordova... ...nel suo mestiere, preferisce farli fare, ma è anche sportivo. ...e poi ancora una gran botta di Ferri... ...dell'Atalanta, giocatore svedese. ...pista il passaggio raso-terra per Vella e la... ...s'attrazione anteriore comincia nel modo più promettente, ed è lo stesso Serena dopo... ...a mettere in angolo la sverla di Chiorri. ...l'anno costringe Terraneo a salvarsi in corner. ...sul calcio d'angolo battuto da Chiorri, ma Terraneo è pronto. ...sazzati, ma Terraneo ha le carte in regola per dirgli di no. ...la Tini ogni tanto ci riprova, ma Terraneo è disposto al bis. ...in gran vena si oppone a un Colombo sempre disponibile al tiro. La partita termina qui. Gli ultimi sussulti fanno salire il tono emotivo della partita. ...l'Ascoli, che chiude un ciclo, si consola con l'Europa. Gli ultimi sussulti fanno salire il tono emotivo della partita.